Non funziona Niente, non va Quando una cosa non funziona, non funziona Questo funziona Metti da parte Si sono finito Amore, che ne dici di questo problema? E' buono, è buono Non è che mi fa ingrassare? E mica te lo devi mangiare, scusa Collega, vieni Che c'è? Un gabbiano morto Un gabbiano morto? Dov'è? Dov'è? Ehi Giuseppe Ciao papà Stai studiando? Sì Bra Papà Dove sono le piramidi? Che ne so Quelle tue armate che mette a posto le cose Via Dove hai messo le piramidi a Giuseppe? Se in casa spariscono pure le piramidi Guarda Mi dimentico veramente Non è possibile Buongiorno 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 Senta Devo prendere una bandiera Italiana, sì? Sì, italiana E come la preferisci? Perché come la avete? Non come la fate? La bandiera italiana com'è? Verza? Bianca e rossa? Eh, che ne so Ehi Vabbè la prendo verde Vedi che razzo di rapporto Guarda Facci giù Guarda A certi colleghi Devi stare a spiegare tutto Ah Io guarda Sono sempre stato dell'avviso Credimi Esistono due categorie di carabinieri Secondo me Cioè? Ci sono i carabinieri Voglio dire Quelli come Vabbè Intelligenti Dai Non lo volevo dire Va Va Fa nessuno E poi Diciamo la verità Ci sono anche quelli I propri occhi Dove vai? Mi hanno bussato Che fado io? Oh yeah